Due esempi molto semplici per capire come funziona la cerca verticale. Allora, cerca.vert oppure vlookup in inglese. Dobbiamo passare dei parametri. Il parametro di ricerca, il primo parametro, quindi noi vogliamo cercare questo valore, dove in questo perimetro, quindi andremo a ricercare all'interno di questa tabellina, e qui nel terzo parametro gli diciamo cosa vogliamo avere in uscita, quale colonna vogliamo avere in uscita. Quindi in questo caso 2, 1, 2. E poi gli diciamo corrispondenza esatta, così faremo una ricerca esatta del valore che abbiamo indicato nel primo parametro, quindi il valore che vogliamo effettivamente ricercare. Questa formula è esattamente quella che ho utilizzato qua sotto, quindi se qui da fragole io sposto a mele, ottengo 1, 1 euro, perché sto estraendo la colonna 3. Se qui al posto della colonna 3 metto la colonna 2, ottengo la quantità. Ho fatto una ricerca in base ai parametri che ho messo su delle celle.